Il cordoio da parte del primo cittadino di Teramo che neanche una settimana fa lo ha incontrato in occasione della consegna della cittadinanza onoraria e quindi della chiave della città. Sì davvero grande commozione, grande emozione per la scomparsa di un uomo che ha fatto tanto per il nostro paese, per la nostra città, un teramano, cittadino onorario, insomma davvero in questi casi le parole sono troppe o sono troppo poche perché è sempre difficile esprimere quello che si prova, però davvero insomma provo grande dispiacere, grande dispiacere per quello che è accaduto seppure consapevole che le condizioni di Marco Pannella non erano delle migliori perché già la settimana scorsa erano evidenti i segni della malattia su Marco però lui aveva comunque anche in quel momento seppure di difficoltà mantenuto una lucidità impressionante e aveva avuto anche la forza di fare qualche battuta, quella delle chiavi false, lui sapeva chi le aveva falsificate. Una persona che ha fatto tanto, dicevo nel bene o nel male perché tanti lo ricordano come quello che ha fatto, diciamo il Pannella che ha fatto la battaglia per il lotto zero, tanti lo ricordano invece per le battaglie che ha fatto per i detenuti, per l'aborto, insomma voglio dire non tocca a me sicuramente ricordare tutto quello che ha fatto Marco Pannella, però la città così come l'ha voluto onorare con la cittadinanza onoraria sarà vicino a Marco Pannella nel giorno del suo addio, verrà proclamato il lutto cittadino e saremo pronti ad accogliere Marco Pannella così come merita di essere accolto e sono certo che la città risponderà come ha sempre fatto e quindi davvero grande emozione che credo di esprimere io come sindaco ma credo che quello che io sto dicendo e sto pensando lo esprime tutta la città di Teramo. C'era la garanzia che anche dopo di me, anche se il dopo dovesse rivela, la storia radicale di grande civiltà umana non solo italiana prosegua.